Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni a tutti voi, buona domenica. Vedete, vedete il titolo della nuova trasmissione? Laurea in felicità, alias Laurea in felicità, felicità. Sì, oggi è domenica 20 novembre 2011. E beh, ci sono gli amici, gli amici cari. E qua ho ricevuto una e-mail, l'ho ricevuta qualche giorno fa, e un amico mi scrive dal mondo delle ombre e mi parla di un corso di Laurea in felicità, Freezer Empire, chiocciolalibero.it, Freezer Empire. Caro, ciao Serafino, il mio nome è Giovanni di Lapide e ti scrivo dal mondo delle ombre, e mi conosce da tanto tempo questo amico, si vede, perché ho fatto tanti video in cui parlavano grandi personaggi dal mondo delle ombre, cioè dall'aldilà. E allora mi dice, noi da qui, da qui, da qua giù, cioè dal mondo delle ombre, possiamo vedere tutto quello che succede da voi? In vita, in vita per svariati motivi, ero una persona molto infelice e dopo tante tribolazioni ho lasciato la terra quasi un anno fa. Qui mi hanno suggerito di vedere i tuoi video e ho notato che in molti di essi parli della felicità, sì sì, adesso parliamo della felicità a te, va bene, e del suo impossibile totale raggiungimento. Ma da adesso c'è una novità. In terra sarda, cioè in Sardinia, nasce un nuovo corso di Laurea per studenti altruisti e desiderosi di salvare il mondo, cioè la laurea in felicità. Sì, hai capito bene, forse hanno preso la lettera a ciò che dici nei tuoi video e volendo ovviare a tale laguna hanno deciso di strutturare questo importante e ambizioso corso di studi. Ah, averlo saputo prima, non puoi non fare un video su questa sorprendente novità. Utilizza pure il mio nome e cognome, tanto qui dove mi trovo non hanno più importanza. Ti invio il collegamento dall'articolo, c'è il link. Ti saluto e ringrazio cordalmente. Qui mi dicono di attenderti il più tardi possibile. Giovanni di Lapide mi ha detto di evidenziare il nome e cognome perché non ha problemi, vi tagliato nel mondo delle ombre e ti sei visto, sei visto. Ecco, è questo cari, di nuovo senza trucco e senza inganno cari, 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 cari. Vedete, cari amici, questo non me lo sono scritto io, capito? Nessun messaggio, ma poi me lo scrivo io. Dovrei chiudere questo canale, questo splendido canale. Se qualcuno potesse avere le prove che i messaggi mi iscrivo io, io che figuraccia che farei, cari amici. Sì, ho aperto il link, ho aperto il link, il link sta qua. È un articolo tratto dall'Unione Sarda. Io di per lì sono rimasto un po' interdetto. Mi sono detto, vuoi vedere che qua, questa è una goliardata, cioè alcuni studenti universitari magari si sono messi d'accordo con il quotidiano dell'Unione Sarda, che è un quotidiano serio, ci mancherebbe altro, e hanno passato al quotidiano dell'Unione Sarda, quella che in gergo giornalistico si chiama una polpetta avvelenata. Non ci potevo credere a quattare notizia, perché saltano fuori nomi importanti, come Vittorio Sgardio, ma tanti altri nomi importanti. Non ci volevo credere, l'ho messo un po' da parte questo messaggio di questo mio amico che mi scrive dal Mondo delle Ombre, che si chiama Giovanni Di Lapide. Giovanni Di Lapide. C'è anche il suo indirizzo e-mail, capito? Se il nome Giovanni Di Lapide magari sarà, come dire, un pochettino modificato, però l'indirizzo e-mail c'è. Lui mi ha detto che non ci sono problemi. Eccolo qua, questo non può essere falso, capito? Questo indirizzo e-mail. E l'ho lasciato un po' pezzo e pensavo, ma stamattina apro la posta e mi trovo lo stesso, ancora un messaggio, questa volta è Milizia Metallica, il quale, Milizia Metallica, non c'è trucco, non c'è inganno, cari amici, il quale mi manda un link, lo apro, non vado sull'unione sata, vado addirittura sulla cosa qua, su agenzia ANSA. Allora ho detto, allora è proprio vero, vedete, il sito internet dell'agenzia ANSA, università, corso di laurea infelicitate. Ecco qua. Allora, la prima cosa che mi sono chiesto, quando ho visto questi nomi artisolanti, dopo ve li decco tutti, Vittorio Scardi, mi diceva, vediamo, ho detto se questi articoli si paga pure della loro paga. Che riferimento a quanto costa questa laurea infelicitate? Quanto si deve pagare? Va bene. Ora, leggo l'articolo ANSA, Cagliari, 16 novembre, nece in Sardegna, l'università dove si apprende l'arte della gioia, l'arte della felicità. Sono quasi 100 gli iscritti, ah, guardate che questo qua è ANSA, vedete, 16 novembre 2011, sono quasi 100 gli iscritti alla Facoltà di Scienze della Felicità, corso di laurea in Teorie e Tecniche di Salvezza dell'Umanità. Un Ateneo ideato dal regista Filippo Martinez, io nulla so di Filippo Martinez, ma sarà un grande regista, di certo voi lo saprete, voi siete più informati di me sulla attualità. Allora, un Ateneo ideato dal regista Filippo Martinez e che partirà a gennaio ad Alborea se si raggiungono 380 adesioni, 40 i docenti tra scrittori, filosofi, ricercatori e giornalisti guidati dall'attuale preside della Facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, Massimo Deiana. Sì, Deiana è un cognome tipicamente sardo. Finisce qua, questo dispaccio dell'Agenzia ANSA, finisce qua, non c'è alcun riferimento ai costi. Allora, andiamo a vedere cosa dice l'Unione Sarda, dove l'articolo è più ampio. No, l'Unione Sarda, l'Unione Sarda, vediamo la data, questo è molto precedente, l'ANSA è arrivata molto dopo, è arrivata l'ANSA, è l'Unione Sarda di venerdì 28 ottobre 2011. Oristano, una laurea in felicità tra i docenti Vittorio Sgarbi e Benito Urgu. Ecco qua, allora, nasce in Sardegna da un'idea dell'eclettico artista o oristanese Filippo Martinez, già regista di Vittorio Sgarbi, quotidiani e altre trasmissioni di Mediaset. Martinez ha messo in piedi un nutrito corpo docente che tra i nomi annovera lo stesso Vittorio Sgarbi, ma anche Giulio Giorello, vedete che sono nomi importanti, Barbara Alberti, Barbara Alberti, Michela Murgia, il cabarettista sardo Benito Urgu, i giornalisti Giorgio Pisano e Francesco Abbate, perfino un cantante, eccetera, eccetera, eccetera. L'obiettivo è quello di innalzare il tasso di felicità degli studenti con un approccio scientifico continua, continua e continua, però non c'è nessun riferimento al costo. La laurea, l'articolo è lungo, potete andare a leggerlo, è l'Unione Sarda, quotidiano sardo, l'Unione Sarda, IT, l'Unione Sarda IT, venerdì 28 ottobre 2011, e termina dicendo la laurea non ha un valore legale, non è spendibile sul luogo di lavoro, ma favorisce un percorso alla ricerca della felicità. I docenti parlano di ciò di cui essi sono innamorati e così riescono a trasmettere felicità agli allievi. Ecco, allora il punto per me è di stabilire se questa trasmissione della felicità agli allievi da parte dei docenti avviene gratuitamente o a pagamento. Io qua non ho trovato nessun riferimento al costo di questo corso di laurea in felicità. Dice, non ha valore legale, questo conta poco, conta poco che non abbia valore legale, va bene? Non è spendibile sul luogo di lavoro, ma favorisce un percorso alla ricerca della felicità. I docenti parlano di ciò di cui sono innamorati e così riescono a trasmettere felicità agli allievi. Io vi ringrazio, cari miei amici, cari miei telespettatori, eccolo qua, Milizia Metallica, e poi questo singolare personaggio che è il cui indirizzo email è questo, vedete? Freezer Empire e poi esegue, poi Freezer Empire chiocciolalibro.it che risponde al nome e cognome di Giovanni di Lapide. E va bene. Allora parliamo un po' della felicità di... Parliamo un po'. Allora io vi voglio riportare indietro ai tempi in cui in Roma Antica in Roma Antica tra il 200 e il 150 avanti Cristo quando Roma dopo la battaglia di Zama 202 avanti Cristo da quel momento lì in poi dopo aver sconfitto Cartagine definitivamente il 202 avanti Cristo nella battaglia di Zama con Scipione e l'Aficano contro Annibale da quel momento Roma divenne l'incontrastata padrona dei paesi che si affecciavano sul Mar Mediterraneo da quel momento in poi i regni ellenistici cioè i regni che si erano formati sull'impero di Alessandro Magno cadono tutti come berilli nelle mani dei romani prima fu il regno ellenistico di di Siria grande regno ellenistico di Siria e poi e poi fu la volta del grande regno ellenistico di Grecia e Macedonia il regno ellenistico dei Tolomei discendenti di Alessandro Magno fu lasciato in vita ma come alleato di Roma poi anche il regno ellenistico dei Tolomei di Gito e poi andrà a far parte dell'impero romano ai tempi di augusto imperatore e quando fu la volta della conquista del regno ellenistico di Macedonia e Grecia e il quale venne sconfitto una prima volta però i romani lo perdonarono e gli lasciarono gli lasciarono l'autonomia i romani si accontentarono di portare via un po' di casse d'oro e via di sé però dopo si ribellò si ribellò il regno ellenistico di Macedonia e Grecia si alleò al tempo del suo ultimo regno il re Perseo e allora i romani si incazzarono di brutto arrivarono le legioni ci fu la sconfitta definitiva del regno di Macedonia e Grecia e il re Perseo con tutta la sua corte e con una quantità infinita di tesori potete immaginare una quantità infinita di tesori venne portato a Roma per il trionfo e una volta a Roma c'era il re Perseo con la moglie con i figli con tutti i suoi cortigiani e ripeto una quantità infinita di tesori che sembra che il corteo della vittoria sia durato diversi giorni e i romani non finivano di applaudire e il re Perseo prima che avvenisse il corteo della marcia della vittoria si rivolse al console vincitore e gli chiese la grazia essendo lui un re gli chiese la grazia che a lui Perseo e ai suoi familiari fosse risparmiata salunta di di seguire come prigioniero come re sconfitto il corteo della vittoria e il console gli disse gli disse il console re tu sei il padrone di vivere o di morire se non puoi partecipare se non vuoi partecipare al corteo accomodati qua ci sono tutte le spade che vuoi storia se non vuoi partecipare al corteo come re sconfitto schiavo qua ci sono tutte le spade che vuoi scegli ne una e il re Perseo non volle seguire il consiglio dello stoico console romano e sfilò nel corteo della vittoria sfilò come schiavo come prigioniero e poi succede pure che queste sono cose dell'antica Roma perché era già iniziata l'epoca degli stoici nella Repubblica Romana che poi si accentuò si accentuò poi con l'impero e adesso arriviamo l'impero ai tempi di 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 Seneca vi ho detto tante volte che una delle opere migliori di Seneca è intitolata Lettere a Luciglio e io so che il grande comico romano Verdone mi pare che sia Carlo Verdone Carlo Verdone so che lui quest'opera di Seneca Lettere a Luciglio la tiene sempre sul comodino vicino al suo guanciale perché la letta ogni sera legge qualche pagina legge rilegge perché sono opere di cui non ci si stanca mai beh c'è scritto in quest'opera che quando gli alunni giovani alunni di Seneca si rivolgevano a Seneca e gli dicevano maestro qual è la strada per la felicità e lui gli rispondeva vuoi sapere qual è la strada per la felicità la strada per la felicità è una vena del tuo corpo ma in quale università italiana in quale luogo del mondo ti possono dare oggi una risposta come questa noi siamo tanto civili e loro mica erano civili i romani ma come si fa a dire queste cose arrivano i ragazzi che ti chiedono maestro dici qual è la strada per la felicità e il maestro ti risponde voi sapete qual è la strada per le felicità una vena del tuo corpo che poi Seneca morì così Seneca proprio morì così poi su ordine di Nerone è vero Nerone gli disse ucciditi sì però poteva scappare Seneca poteva scappare non so se mi spiego aveva tutta la possibilità di fuggire però Seneca sapeva anche conosceva bene il grande detto degli stoici che era il seguente volentes fatadukunt nolentes trahunt ok non so è inutile opporsi al destino se uno lo accetta il destino il destino lo accompagna dolcemente ma se uno si oppone al destino il destino lo prende per i capelli e lo trascina e poteva scappare Seneca però no capì che era inutile scappare tanto si deve morire una situazione di fuggiasco per l'impero non era poi tanto gradevole e lui si distese in una vasca d'acqua tipida si taglia le vene e morì dolcemente di sanguato è antica Roma è antica Roma e il cattore Ludicense guardate io non ho non ho tanta simpatia per per il divino poema la divina commedia di Dante di Ghieri non ho tanta simpatia perché 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 non ho tanta simpatia per la divina commedia però c'è un passo della divina commedia precisamente all'inizio del purgatorio dove c'è un'argomentazione meravigliosa all'inizio del purgatorio c'è la figura dello stoico catone Ludicense catone di Utica nel senso che le ultime vicende esistenziali di questo catone si svolsero a Utica catone Ludicense era un irriducibile nemico di Caio Giulio Cesare e Caio Giulio Cesare nel corso di varie guerre civili dovette combattere anche contro catone Ludicense catone Ludicense e il suo esercito furono sconfitti e catone Ludicense per evitare di cadere prigioniero nelle mani di Caio Giulio Cesare si conficcò il gladio nel ventre si conficcò il gladio nel ventre e siccome l'aver conficcato il gladio nel ventre non era stato sufficiente a farlo morire e magari di lì a poco sarebbe arrivato Caio Giulio Cesare che avrebbe visto catone Ludicense con il gladio nel ventre ma ancora vivo che fece catone Ludicense con le sue proprie mani andò lì dove c'era la ferita se l'allargò facendo uscire i viscere al di fuori al di fuori del loro grembo e poi morì e a proposito di catone Ludicense morto suicida e Dante Rigieri fa dire al suo accompagnatore Virgilio le seguenti parole cioè Virgilio dice a Dante Rigieri lo vedi quello là quello là è catone Ludicense è un suicida e chi è il suicida ecco cosa dice Virgilio cioè ecco cosa Dante fa dire a Virgilio a proposito dei suicidi libertà van cercando libertà che si cara van cercando come sa chi per lei vita rifiuta allora libertà van cercando libertà libertà van cercando che si cara che è così amata come sa chi per lei vita rifiuta come dire che la libertà è più importante della vita se tu non puoi vivere in libertà è meglio che tu muoia detto parole barbariche e vabbè ma possono insegnarle queste cose questa università le possono insegnare possono insegnare quella strada della felicità secondo le indicazioni di Seneca e dicono che noi siamo civili dicono che noi siamo civili che sono state messe al bando queste cose sono state messe al bando addirittura si era arrivato al punto di considerare i suicidi dei delinquenti cioè se uno cercava mi pare che i codici penali prevedano non so se adesso mi pare che ultimamente sono stati un po' modificati ma per secoli e secoli e secoli l'omicida no il suicida veniva considerato un omicida infatti che cos'è il suicida se non una persona che ammazza se stessa e quindi i codici penali prevedevano che se uno aveva cercato di suicidarsi e non era riuscito a farlo perché può capitare pure questo può capitare e veniva condannato come omicida come omicida magari gli si dava la semi infermità mentale o l'infermità totale la piena infermità finiva in un manicomio giudiziario però questa era la situazione l'umanità è atterrita dal suicidio eppure gli antichi storici dicevano che la via per la felicità poteva essere quella in certe circostanze Catone Ludicense e Catone Ludicense piuttosto che cadere nelle mani di Caio Giulio Cesare in cattività cioè in prigionia e si suicidò e consola come si chiama Seneca dice la strada vuoi conoscere la strada per la felicità una vena del tuo corpo ma guardate la grandezza l'estrema lucidità del pensiero storico per questo che io sempre sempre li metto sullo stesso piano e chi mi chiede come la pensi tu seranino massoni gli rispondo sempre io amo tanto il buddismo amo tanto lo stuicismo e politicamente parlando sono un radicale da sempre un radicale alla Marco Pannella e cosa sanno i giovani ma che cosa sanno i giovani di quello che ha fatto Marco Pannella dal 1965 70 poi adesso voi conoscete un Pannella che avrà 80 90 anni e va bene ma bisogna guardare cosa ha fatto in tutta la sua vita mica vedere soltanto quello che fa nella fase terminata ma cosa ne sapete voi cari amici quindi dico sempre io sono uno che ama tanto lo stuicismo il buddismo e politicamente parlando sono un radicale alla Marco Pannella per quanto riguarda stuicismo e buddismo io di fronte a stuicismo e buddismo mi trovo come il famoso asino di buddhidano che non so quale preferire dei due sono attratto da tutti e due e per cui sto qua paralizzato perché non so se orientarmi di più verso lo stuicismo o di più verso il buddismo una cosa è certa però che il buddismo il grande pensiero del Buddha che poi è stato è stato tradotto in Europa filosoficamente parlando da Arthur Schopenhauer e non le vuole sentir parlare del suicidio vedete quanto è potente il condizionamento a vivere quanto è potente l'istinto di sopravvivenza che porta anche due pensatori estremi come il Buddha e poi Schopenhauer dire che non ci si deve suicidare perché il suicidio altro non sarebbe che un ribadire la volontà la volontà di vivere cioè non sarebbe un trapasso nella no-lontà no il suicidio è un'estrema affermazione della volontà e vabbè ma qua abbiamo una forma di pensiero che è condizionata pure nel buddismo sì anche nel pensiero di Schopenhauer abbiamo una forma di pensiero filosofico che è condizionata dall'istinto di conservazione ciò non avviene con gli stoici ciò non avviene con gli stoici gli stoici sono stati lucidi stati incoerenti sino all'estrema conseguenza felicità vuoi conoscere la strada della felicità una pena del tuo corpo e vedremo se questi professori qua se questi professori di questo corso di laurea infelicitati avranno il coraggio il coraggio di andarle a dire queste cose al corso di laurea per cui cari amici cari amici e coloro che mi ascoltano sono se non altro questi due signori che mi hanno scritto Milizia Metallica e Giovanni di Lapide e sono sono pregati di prendere questo video come so infiocchettarlo come si deve e mandarlo agli indirizzi a tanti indirizzi email relativi a questo corso di laurea infelicità capito? fatemi questo favore cari amici io sono tanto anziano e ho anche poco tempo voi che ve ne intendete più di me mandatelo questo video che in fin di conti fa pubblicità a questo corso di laurea infelicità dove ci sono nomi altisonanti come Vittorio Sgarbi il grande filosofo matematico Giorgio Giorello c'è Barbara Alberti e ditelilo ma se Ravino Massoni ha detto che c'erano già diciamo così gli insegnamenti per raggiungere la felicità specialmente quelli di Seneca che era il maestro ben più importante di voi e neanche si faceva pagare per i suoi insegnamenti ve la sentirete voi di insegnare al vostro corso di laurea in felicità quello che diceva Seneca il quale rispondeva ai suoi allievi vuoi conoscere la strada per la felicità ok è una vena del tuo corpo vabbè cari amici cari 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 vabbè ci torneremo sull'argomento presto anche se ci sono già stato quel signore lì del mondo delle ombre l'ha già detto che ne ho parlato tanto 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 della faccenda e adesso ne parlo di nuovo anche come omaggio a questo nuovo corso di laurea in felicità dove però non si parla mai della baglia dei docenti figuriamoci se come si chiama Vittorio Sgarbi la brava Barbara Betti è stato appettuto Barbara Betti Giorgio Giorello vediamo se lo fanno gratis questo lavoro per amore dell'umanità va bene va bene grazie mi raccomando infiocchettatelo bene questo video e mandatelo ai destinatari giusti ok cari saluti a tutti voi da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti